La seconda guerra mondiale si è conclusa come tutti sappiamo con la sconfitta della Germania e Hitler che si suicida nel suo bunker pur di non essere catturato dai sovietici. Ma il mondo è stato ingannato. Hitler, con uno bot, è fuggito in Argentina e qui i suoi scienziati tedeschi lo hanno mantenuto in vita con tecnologia berranti. Atteso per più di 70 anni il caos che gli consentisse di compiere la sua vendetta, l'avvento del quarto Reich è solo questione di tempo. Lui è tornato. Io sono l'imperatore. Allora, è il momento meno indicato per Bandiera Rossa, maledizione, qui si è ricreato il Reich. Il quarto Reich, avete potuto vedere. Nell'introduzione è tornato un personaggio che pensavamo tutti fosse morto. Bene, sta già giustificando sull'Austria. Neanche è arrivato, ma subito la tentazione dell'Anschluss è devastante. Tanto sta pure migliorando le relazioni con il Giappone. C'è speranza di asse nell'aria, però ancora il nostro Matteo Salvini si sta occupando delle misure anticorruzione e stiamo giustificando una guerra solo a Croazia, ma ci pensiamo dopo. Allora, continuiamo. Siamo abbastanza indeboliti. Verranno rimossi l'11 dicembre 2017. 14 marzo 2018. E questo invece non lo so ancora. Quindi ragazzi, per il momento siamo impegnati in questa lotta alla mafia. Intanto abbiamo i francesi che sono penetrati nel nostro territorio. Evidentemente ci staranno scaricando i migranti, come è accaduto recentemente, ragazzi. Una situazione a dir poco paradossale. Intanto qui stiamo migliorando. Bene, abbiamo fatto le nostre misure anticorruzione. Mafia e corruzione sono principali problemi italiani. Bene, dai ragazzi, noi dobbiamo scendere lungo questo tratto dell'albero di focus. Doviamo arrivare allo stop dell'immigrazione. Quindi per il momento supportiamo la produzione locale. Cerchiamo di instaurare una specie di autarchia. Ne abbiamo proprio bisogno. Sinceramente non so se la Croazia possiamo attaccarla. Soprattutto per il fatto che siamo messi abbastanza male a causa della guerra civile contro i corrotti, contro i mafiosi. Intanto la Colombia ha dichiarato guerra al Perù. Sappiamo che il mondo sta discendendo sempre di più verso la follia. Diciamo che la follia più grande l'abbiamo già vista. Stanno facendo le ricerche del Reich. Andiamo a vedere com'è quest'albero del focus tedesco. Bene, Reich va bene. L'elezione della seconda guerra mondiale. La Blitzkrieg. La gioventù hitleriana. E il quarto Reich. Va bene, dai. Intanto lo stanno... Lasciamoli ricreare. Vediamo come sono gli schieramenti adesso nel mondo. Abbiamo una Nato che ha perso la Germania. Tutto questo blocco balcanico già non si trovava all'interno della Nato. Va benissimo. Quindi la Nato via via sta perdendo proseliti. Anche se Canada e Stati Uniti comunque rimangono. Anche questo blocco. Poi abbiamo questo grandissimo centro africano. E vediamo nella Nato abbiamo anche la Malesia. No, ah no, è stato conquistato dal Regno Unito nella scorsa guerra, ragazzi. Forse non avevamo tanto puntualizzato per il fatto che è tornato Adolf Hitler. Il Peru intanto è entrato in guerra con le... Eh, Sud America cosa sta facendo? Cosa sta succedendo? Intanto abbiamo qui i narcotrafficanti che attaccano il Peru mentre il Peru attacca l'Equador. Interessante questa tipo qui. Keiko Fujimori. Questa è una specie di... Dittatore quasi in Peru perché c'è una dittatura mascherata. Questo è... Questa è una giapponese, ragazzi, pensate un po'. E una storia, un aneddoto interessante. Suo padre era un giapponese che è emigrato in Peru. Il signor Fujimori. Intanto l'India ha rifiutato di dare il Dalai Lama alla Cina. Lo volevano indietro. E no, quindi praticamente questa tizia qui aveva il padre che era un fisico, tra l'altro. Ma è diventato dittatore del Peru con un colpo di Stato completamente insensato. Cosa ci fa un Giappone in Peru? Non l'ha capito neanche lui, però si è trovato dittatore del Peru. Adesso sua figlia... Beh, si saranno aperti, penso, a una sorta di democrazia. Anche se non so quanto sia valida. Non è che mi sia così tanto interessato alla situazione peruviana. Dobbiamo supportare gli altri partiti euroscettici e lo facciamo, che così distruggiamo l'ansien regime che si trova nell'Unione Europea. E forse è arrivato il momento di dichiarare guerra alla Croazia, perché dobbiamo espanderci, che abbiamo bisogno di introiti e risorse che non abbiamo. D'altronde noi abbiamo l'antico Casus Belli per la vendetta per le foibe. E quindi tutti i titini in questo momento saranno lì a fare... No, vai dire, le foibe! Vabbè. Allora, qui mettiamoci un fel maresciallo interessante come... Fel maresciallo Graziano, vedo, sì. E poi facciamo partire i nostri aerei. Quindi... Superiorità aerea. Questi li mettiamo invece a fare... Cruzeff Support. Poi facciamo... Mettiamo la nostra flotta in Search and Destroy e i nostri sottomarini li mettiamo in Convoy Raiding in modo tale che distruggano un po' i convoi della Croazia e farmiamo un po' di esperienza. Abbiamo... Possiamo modificare il governo. Possiamo mettere qualcosa di interessante come potrebbe essere una coscrizione e cominciamo a fare una coscrizione limitata. E facciamo partire pure la guerra. Potrebbe essere un'azione insensata ma secondo me è il momento giusto per farlo. Abbiamo, penso, la totale schiacciante superiorità aerea quindi non dobbiamo temere nulla. Facciamo partire gli sbarchi e vediamo come va. Vediamo come va, ragazzi. Speriamo vada tutto bene. Abbiamo i francesi intanto che stanno attraversando il nostro territorio per il momento possono ancora farlo a breve non potranno più. Speriamo di riuscire a sbarcare a Spalato perché è il porto, ragazzi. Sì, stiamo sbarcando invece negli altri punti. Ah, qui però c'è un altro porto che sembra completamente libero, quello di Zara. Quindi andiamo a riprendere gli antichi territori della Repubblica Veneziana. Perfetto. Allora, qui stiamo attaccando e sembra che dovremmo riuscire a sfondare se tutto va bene. Sì, abbiamo la schiacciante superiorità aerea. Andiamo a vedere subito. Sì, pare proprio di sì. Ci stanno bombardando, possibile? No, 12 aerei. Cioè, sbattiamo, non fanno completamente nulla. Allora, è il momento subito di prendere, posizionarci in quest'area per assicurarci il controllo del sud della Croazia mentre le mie truppe sbarcano. Sì, ormai è evidente che stiano sbarcando. Qui c'è una divisione di carri armati che potrebbe darci fastidio, a dire il vero. Intanto mandiamo la nostra folgore. Qui avanziamo con le nostre truppe. Possiamo cancellare un... No, cancelliamo dopo il fronte. Vediamo se la divisione di carri che stiamo andando a creare, sì, la posso magari sbloccare che ne ho bisogno anche se è green. Ne ho bisogno per difendermi da quella divisione di carri che potrebbe martoriarci. Allora, avanziamo da questo lato. Quanto sta musica sta diventando un po' fastidiosa, quindi aspettiamo... Allora, paracautisti possono attaccare da questo lato e assicurarci... Ecco. Perfetto. Allora, li stanno attaccando, ci stanno resp... No, stiamo... Ci stiamo difendendo dall'attacco corazzato... Dall'attacco corazzato croato. Quindi possiamo avanzare mentre quelli difendono il territorio. Poi sta arrivando la nostra brigata ariete, finalmente ricostituita perché il gioco buggato l'aveva incredibilmente persa. Vediamo se stiamo avendo qualche scontro navale. Pare di no. Quindi abbiamo la totale superiorità nel Mediterraneo, il nostro mare nostro. Lì ci stanno attaccando ma noi li stiamo respingendo. Qui li abbiamo fatti fuori. Questi possono procedere andare a prendere anche l'ultimo porto croato così ci assicuriamo completamente il controllo del sud del sud della Croazia. Non abbiamo grandi problemi. Allora, qui possiamo saccare in realtà. Possiamo saccare quella divisione di carri abbastanza velocemente con i nostri alpini della brigata Iulia. Quindi potrebbe essere un buon successo. i croati si sono rifiutati di pagare l'indennità per le foibe e quindi siamo dovuti scendere in guerra in un mondo di pazzi, di folli con un Hitler che si sta avvicinando a fare il nuovo Anschluss. Non potevamo fare a meno che spanderci. Spero che non ve la prendiate troppo. Allora, qui abbiamo messo i nostri carri. Dov'è che sono? Qui possono sferrare un attacco anche i nostri carri, i nostri C1 Ariete. Però dovrei averli adesso aver ricercato i nuovi carri. Abbiamo ancora, ricordiamo, i malus incredibili per il fatto che stiamo combattendo la mafia. Quindi potremmo avere dei problemi. Allora, qui la situazione non è messa bene perché ci stanno contrattaccando quindi dobbiamo fare a pezzi questa divisione di carri prima che venga... prima che si salvi. Le forze croate sono state circondate in questa area. Quindi, perfetto. Niente, l'abbiamo circondati perfettamente quindi adesso la brigata corazzata dovrebbe essere distrutta. I nostri Ariete sono potentissimi. La Thailandia è entrata in guerra. Dobbiamo finire questa guerra il prima possibile. Mamma mia che ostinata resistenza stanno facendo i croati ma mandiamoci subito i nostri alpini che sono armati bene. Sono gli unici che hanno un armamento adeguato qui abbiamo delle infrastrutture che dovremmo riparare sono quelle... Ok, perfetto. Perfetto, possiamo riorganizzare il nostro esercito. Abbiamo perso delle divisioni? Possibile che avessero così poco... Eh sì, mi sa che avevano così poco equipaggiamento che si sono dissolte. Va bene, non è un problema non abbiamo perso uomini, non c'era manpower dentro. Ok, allora queste le mettiamo qui dentro gli alpini qui e magari anche i carri mentre le altre possono andare a distruggere quell'ultimo contingente. Potremmo fare uno sbarco per riprendere anche l'Istria effettivamente. Allora, mandiamo i carri in avanscoperta e poi supportiamo con fanteria. Perfetto, dai. Ci si stiamo aprendo proprio la strada mentre da questo lato possiamo mandare la folgore ad attaccare direttamente questa divisione che tra l'altro sta subendo attrito e ci mandiamo anche le meccanizzate e la cavalleria l'ultima brigata di cavalleria rimasta nel mondo penso quindi ce l'aggiostriamo in questo modo i nostri carri li mandiamo da questo lato le due meccanizzate che abbiamo possono attaccare direttamente Zagabia mentre il nostro contingente corazzato isola definitivamente la capitale dal resto della Croazia Perfetto questa cosa l'abbiamo fatta direi che possiamo anche avanzare da questo lato no, ci stanno contraattaccando li abbiamo fatto un overrun entriamo vittoriosi Matteo Salvini si è avvicinato praticamente arrivato tramite mezzo aereo in Croazia per assistere i combattimenti delle truppe ed entrare vittorioso in Istria che finalmente dopo anni ritorna nel possesso degli italiani legittimo secondo me quindi ci sta ci sta non abbiamo violato penso nessuna norma internazionale invece ne abbiamo violate parecchie quindi ma tanto l'ONU non esiste più e quindi abbiamo preso la Croazia la Slovenia sta cominciando a pensare che potrebbe essere la prossima per il momento si sente al sicuro del fatto che si trova all'interno della Nato quindi non la toccheremo invece la Bosnia non si trova a nessuna parte tra l'altro è controllata da questo tipo mefitico ha una faccia molto pericolosa sì immagino andiamo a vedere come sta andando nel resto del mondo allora il nostro Kim Jong-un ha fatto una strepitosa figura di merda in quanto ha attaccato e non è riuscito comunque a sfondare niente no proprio forse forse qualcosina no in realtà non è riuscito ad attraversare la frontiera sta arrivando il contingente americano quindi attenzione vediamo la Cina cosa sta facendo un programma di droni quando è che potranno entrare in guerra il 24 aprile del 2018 quindi non manca tantissimo intanto ci sono le olimpiadi di Pyeongchang quindi penso che siano le olimpiadi invernali se non ricordo male qui in in Corea diciamo che non è proprio non è proprio la zona il momento diciamo storico adatto sta arrivando l'intero esercito greco va bene dai possiamo cominciare a giustificare magari su altre nazioni come potrebbe essere la Bosnia per espandere il nostro nostro spazio vitale oppure l'Albania in effetti ma l'Albania nella Nato attenzione che l'Albania nella Nato il Montenegro invece potrebbe essere un pochettino più interessante cominciamo magari a giustificare sul Montenegro impero di Tunisia che faccia da imperatore tunisino abbiamo supportato un po' i partiti euroscettici e abbiamo avuto successo perché il Lussemburgo è uscito dall'Unione Europea quindi il nostro mitico Juncker ma è comunista cos'è il Lussemburgo marxista ma cosa sta succedendo il Lussemburgo marxista ma chi è sto tipo qui Alirukert ho cominciato ragazzi a preparare un piano di invasione per per il Montenegro non penso che sia una battaglia troppo troppo difficile un giorno storico si tanto vabbè Lussemburgo marxista vabbè tanto qui abbiamo già diventato un meme ragazzi abbiamo finalmente sconfitto la mafia guardate il sud è stato liberato praticamente che soffriva tanti quanti bonus la guerra la mafia ha avuto successo un'altra grande vittoria per la nostra patria grazie Salvini grazie il nostro mitico nuovo perfetto mori tanto il German Reich è entrato in guerra contro l'Austria quindi ne vedremo delle belle ragazzi penso che questo sia l'ultimo evento per questa per questa puntata vediamo se l'Anschluss tedesco avrà successo ma io cosa gioisco cioè dopo confiniamo direttamente con il re di vivo Hitler che quindi non dovrei gioire però è troppo bello vedere l'Anschluss nel 2018 intanto la Trasnistria è capitolata però la Moldavia comunque vediamo sta avendo ma l'Ucraina no dai ma l'Ucraina ha lasciato l'accesso militare alla Russia ma comunque non può accedere come ha fatto come hanno fatto i russi ad arrivare l'Albania è entrata nella Nato ok ma come ha fatto non mi spiego come abbia fatto non ha molto senso in realtà non riesco a capire come abbia fatto l'esercito russo ad accedere praticamente qui in Transnistria non so in quale modo boh forse ha attraversato è entrato in Transnistria e poi ha attaccato la Romania si è possibile che abbia fatto in questo modo intanto l'esercito tedesco sta arrivando velocemente a Vienna dove c'è Strache che purtroppo non aveva la protezione di nessuno non era nella Nato e immagino fosse anche uscito dall'Unione Europea stupidamente quindi non ha avuto la protezione di nessuno ma ancora qui sono ancora qui cioè la Corea sta combattendo furiosamente forse la Nato non è ben organizzata secondo me cioè qui potrebbero fare un sacco di sbarchi perfetto dai Anschluss c'è stato l'Anschluss quindi l'Austria non esiste più il nostro mitico Führer tanto sta facendo la vecchia alleanza questa con il Giappone potremmo rivedere un asse Berlino Tokyo a breve spero che la serie vi piaccia ragazzi spero che vi faccia divertire non è una delle serie più come dire serie che abbia mai fatto però ci sta ci sta a smorzare un po' i toni se la serie vi sta piacendo se vi sta facendo divertire lasciate un like che supportate il canale ci vediamo nel prossimo episodio ciao a tutti da me e al prossimo video ciao a tutti